Uno dei progetti più innovativi che Fano sta elaborando sta prendendo corpo. Siamo giunti ad una fase importante del suo iter amministrativo. Che cosa è accaduto in giunta l'altro giorno? Abbiamo approvato il progetto definitivo della nuova biblioteca federiciana. È un risultato straordinario perché lo sappiamo nel pubblico, ma anche nel privato, quando si devono fare opere complesse c'è una tempistica lunga. Era un impegno che ci avevamo presi, oggi non sono più chiacchiere, non sono più annunciazioni, ci sono fatti concreti. Un progetto esecutivo significa che può essere cantierato già il giorno dopo. È chiaro che un progetto come questo richiede delle risorse importanti, alcune sono già state definite e attribuite, ma sappiamo che ci sono anche interessi di privati, non fanesi ma anche nazionali, che possono copartecipare e quindi partiremo con questa manifestazione di interesse. Ma quello che mi piace sottolineare è la visione, è volare alto, il voler lanciare veramente Fano nel mondo. E penso che questa risposta sia una risposta di concretezza e lasciatemelo dire che siamo a fine mandato, sia uno dei segnali e dei biglietti più belli da consegnare perché si lascerà su un vassoio d'argento, proprio nel vero senso della parola, di un progetto straordinario che lancerà Fano. Architetto, tre elementi fondanti di questo nuovo e meraviglioso progetto, sistema terrazze, l'involucro e lo spazio pubblico, sono tre elementi interagibili l'uno con l'altro. Sì, assolutamente. Diciamo che l'edificio nasce da una premessa, che è quella di creare qualcosa capace di dialogare al meglio col contesto all'interno del quale ci troviamo a lavorare, che è di grande prestigio, quindi il collegamento con la Federiciana sia in termini di funzione che in termini di continuità dell'estetica e della cortina urbana, ma dall'altro di sfruttare delle opportunità latenti. Cioè ci sono opportunità legate a questo lotto, a quest'area, a questa bellissima istituzione che attualmente non sono sfruttate e che sono quelle di avere spazi sufficientemente flessibili per ospitare tutte le attività culturali legate alla Federiciana. C'è la possibilità di avere una terrazza veramente incredibile, aperta sull'orizzonte del mare e c'è l'opportunità in questo caso nel ripensare questo pezzo della biblioteca di creare anche, rispetto alla città, un nuovo spazio pubblico capace di mettere a sistema il sistema urbano al suo intorno, ma di creare una nuova piccola piazza per le attività culturali della biblioteca e anche per la vita di tutti i giorni della città. Quindi noi, seppur con questo piccolo intervento, abbiamo provato a pensare a qualcosa di grande che proietti un po' l'istituzione federiciana a livello delle principali biblioteche europee come dicevano giustamente il sindaco e il assessore Mascherin e allo stesso tempo un edificio integrato ma ambizioso e innovativo nella sua capace di dire qualcosa della contemporaneità che rappresenta.